Wow 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 amici appassionati di gaming e di Hearthstone, ben rientrati sul canale del Duca, nuova rissa, andiamo subito a vedere cosa ci ha parlato la Blizzard questa settimana Intanto vi annuncio ragazzi che l'estrazione per il contest, ormai finito, il 30 giugno è finito, avverrà prossimamente, entro fine settimana massimo, inizio settimana prossima Quindi state calmi, le buste arrivano, la key di Tomb Raider arriva, devo leggere diverse mail, mi pare ne sono arrivate tipo 560, 570 mail, capite bene che alcuni hanno scritto magari un po' più corto Altri hanno fatto veramente dei poemi e quindi voglio leggerle tutte e rispondere a più domande possibili e poi fare il contest nella maniera più buona, più bella, più figa possibile Andiamo subito però a vedere la rissa oggi, vediamo cosa ci rivedere, cosa c'è? Ragni, ragni, tanti ragni, vediamo un po' I ragni soprattutto anche nel tuo mazzo, qualsiasi classe giocherai il mazzo brulicherà di tessitela Ok dai proviamo sta rissa, finalmente ce l'ho fatta, sono riuscito a liberarmi da tutto quello che mi stava, le calcagne E quindi riusciamo a entrare a fare una partitina alla rissa, vediamo com'è I ragni, quindi tessitela, ripercorre un po' la sfida dell'Hunter, del cacciatore per Naxxramas Vediamo come funziona, se sono tutti tessitela o meno Siamo contro il punto Rexar, meglio di lui contro con i cacciatori, con le bestie c'è poco da fare Questo non serve assolutamente a nulla, mazzo veramente preimpostato, veramente strano e bruttissimo Tra tessitela, ok Proviamo Intanto, classe per classe, se sono tutti tessitela o quasi Non c'è poco da fare Vai pastiglia, tessitela, tessitela No, solo tessitela, pastiglia, tessitela Vediamo Tessitela Perfetto Tocca a me, tessitela, tessitela direi, quasi quasi Una mezz'ora di fare tessitela, tessitela, tessitela Andra ci caga Uh, subito il crash Però bisogna arrivarci a turno 9, onestamente, lunga qua È lunga, lunga, lunga Beh, diciamo che se è così, come è strutturato È una rissa abbastanza culosa questa Molto culosa, non c'è da fare il mazzo né nulla, quindi Non c'è molto che possiamo fare Ok, vediamo qua ci caga adesso Qualcosa possiamo giocare, spero No, anche Malorn, sono leggendarie Come al solito il duca, le leggendarie sono la specialità della casa Giochiamo questo Giochiamo questo Facciamo così Vediamo cosa cagliamo ancora Tessitela Ok Vedete che è un solo leggendario per ora Ho cagato due leggendari Chi che manca di leggendaria bestia? Eh, Gazzrilla Poi penso basta Ok Vai Gioca adesso, tessitela Andiamo avanti così tutto il giorno Tocca a me Eh, io direi di giocare Tessitela, tessitela, tessitela 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 Potere eroe Tessitela Tessitela Giocherei questo Tessitela 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 Va bene Va bene Sfrecato Va bene Vai, vai, vai tranquillo Puttana Mi serve qualcosa da giocare adesso Il prossimo turno arriva questo Malord, sicuro Tu com'è? Tessitela C'è un po' di pulizia Tessitela Allora, facciamo prima quello Vediamo cosa peschiamo Questo si può stare però Facciamo anche prima l'altro Oh che Gazzrilla Oh che Gazzrilla Ragazzi Sono un pro Sono troppo un pro Adesso cosa giochiamo? Gazzrilla o Malorna? Ditemelo voi Fantastico Sono davvero un pro ragazzi Io giocare prima a Malorna Perché a Gazzilla pure Perché ce lo rimuovono subito A meno Malorna ce lo rimuovono E ce lo rimette nel mazzo Il prossimo turno Arrivamo a Malorna Fantastica Fantastica Dai Vediamo Questo è un 4-2 Non può toccarlo Vediamo cosa gioca Speriamo niente di grosso Dai Guarda le bestie Va bene Va bene Va bene Va bene Non proprio quello che volevo Mi dispiace È arrivato Malorna Ragazzi Vediamo cosa è pescato Ok Ok Ci siamo ripiti un po' la mano Dai Malorna Dai Malorna Che dopo giochiamo Gazzrilla forse Se ci sta Vediamo se c'è qualche rimozione Di quelle potenti Max ma Però non fa in tempo Rimuovercelo Buona 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 8 Qua possiamo giocare Tranquillamente Io li gioco pure questo Così lo facciamo Fuori di testa Sì Vai Vai E non è ancora visto questo Il prossimo turno Fantastico Adesso deve decidere Chi uccidere Uno dei due Non lo uccide Ok Vediamo Cosa peschiamo noi Ok Quello la figlia Tocca noi Perché arriva anche Recrash Adesso Raga Se non c'hai Se non c'hai Da 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 Tranquillo La bestia però L'ho pescato Grandissima La bestia Mettiamo provocazione Adesso Raga Chiaro Mettiamo provocazione Qua facciamo 9 17 Abbiamo vinto Fantastico Fantastico Che culo Saluti Vabbè ragazzi Diciamo la verità Rissa Veramente For fun Se ce n'è una Senza Nessuna Particolare skill Perché i mazzi Sono preimpostati E conta tantissimo Quello che peschi Dai Ragnetti Dal Appunto Dai Ragnetti E se sono bestie Devastanti Che realmente Ti cambiano la partita O Ti fanno appunto Vince la partita Quindi Non c'è molto A discutere Non c'è molti consigli Che vi posso dare Se non Giocate Fatevi 4 risate I ragnetti Possono dare Come avete visto Adito A moltissime Combinazioni Di bestie Ho pescato Ragazzi Come avete visto Malorn Gazrilla E recrash Tutte In la stessa mano E quindi Fantastico Ricordandovi Allora Che il contest L'estazione Avverrà Nel fine settimana Probabilmente La pubblicherò O domenica Massimo Lunedì E ringrazio Per i like Commenti E le visualizzazioni Un saluto Dal duca Fate questa rissa Fatevi 4 risate Ciao